Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Mauro Corona, scrittore, scultore e noto opinionista di Carta Bianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer è uno dei personaggi televisivi più controversi e chiacchierati delle televisione italiana. Spegliato ed irriverente, di lui si conosce tanto, ma sapete chi è la sua compagna? Carta Bianca, chi è la compagna di Mauro Corona? Mauro Corona, scrittore, alpinista ed opinionista televisivo e sentimentalmente legato alla sua compagna da anni. Dal loro amore sono venuti al mondo quattro figli. Classe 1950, Mauro è nato a Baselga di Pined. Le informazioni circa la sua compagna sono davvero pochissime, di lei si conosce solo che il suo nome è Francesca e che ha messo al mondo i suoi figli, Marianna, Matteo, Melissa, Martina. Il loro è un legame forte, e che dura da anni. In passato però alcune dichiarazioni dell'opinionista di Carta Bianca hanno fatto discutere. In relazione al suo rapporto ha detto che ha tradito sua moglie e che due dei suoi figli lo sanno. Mauro Corona, le dichiarazioni sul rapporto con sua moglie fanno discutere. Mauro in passato ha dichiarato, tradisco mia moglie, sì. Ma la fedeltà è una cosa superata, più che amanti fisse le mie sono occasionali. Io non sono interessante, non sono bello, ma essendo noto posso prendere di più. Punto poi ha aggiunto, sono gli ultimi colpi, me la godo. Due figli lo sanno che tradisco, gli altri si fidano ancora, non ho mai conquistato, non corteggio, non regalo i fiori, aspetto la mossa delle donne, ha dichiarato nel corso di un'intervista per la trasmissione radiofonica La Zanzara. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao. Ciao.